Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, io sono Randy Gamer e oggi sono su Among Us Mettiamo subito in una stanza E come vedete ho anche i pet, si C'è il postore, facciamo finta di tipo fare una task Faccio finta di sbagliare o fare cosi C'è un subito in una stanza C'è un subito in una stanza La stanza Sì, sì, sì. come 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 ma hai sei 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 lei sei sei sono felice sono felice sono felice você sei 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 Per una volta in un video, magari. Ah beh. Mi cambiò anche il colore, lo scrive. Che mi metto? Questo? No. Questo? 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 Sì. Ecco il colore blu. E il colore blu. E sono un polizio. Come cappello, ovviamente. Scusami piccolo petto. Devo cambiarti cappello e devo mettermi... Con la polizio. Un petto. Un cagnolino. Un petto. Un petto. Che stasera! Admiгорò lente! Ra majestic. Non credo subito? I am not, non credo proprio. Andiamo a svuotare la spazzatura, che schifo. Ok, arrivederci. Ciò che potete vedere su questo gioco al momento è tutto Halloween. Arrivederci. Arrivederci. Lei mi ha pure vinto, se io vengo vinto. Non è vero. Ho io il baraccio. Quindi... Ma chi è che fa questi rumori quest'ora? Vicini. Non è vero. E' un'altra cosa che non è vero. E' un'altra cosa che non si parla. Ok. Non mi piace. E va bene ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!